Ben tornati a Quotidiano TV del 26 febbraio. Partiamo con la prima notizia. L'unica cosa che gli importava era raffare soldi, strappando le buste che, come ha detto lo smestamento della corrispondenza all'ufficio postale centrale di Legnano, avrebbe dovuto gestire per la consegna. Ha cominciato con qualche busta che gli sembrava promettente, nella speranza di trovare qualche banconota da giocare alle slot. Gli è andata bene e così ha continuato. Buste decine, centinaia, migliaia, un'ossessione. Il protagonista della vicenda ha scoperto, dopo mesi di indagini dagli agenti del commissariato di Legnano, un postino di 56 anni, nato a Legnano e residente a Villa Cortese. Furto di gioielli e contanti per 10.000 euro e la macchina del capofamiglia, una Mercedes che era parcheggiata in cortile. L'episodio è avvenuto al primo piano della Palazzina Verde di Via Manzoni, a San Zenone all'Ambro, dove vive la famiglia, una coppia di origini albanese, due bambini e i genitori di lui. Ad accorgersi di quanto successe la mamma operaia. Quando tutti i familiari si sono svegliati, hanno lamentato nausea, dolore di pancia e intontimento. Si sono così precipitati in ospedale e con apposite analisi hanno trovato delle sostanze, probabilmente gas, soporifici. Tutti e cinque sono stati comunque dimessi. Sull'episodio indagano i carabinieri di Meleniano e la compagnia di San Donato Milanese. I negozi storici di Milano chiudono le saracinesche. Si chiudono le saracinesche sul centro di Milano. Tra fallimenti, chiusure e liquidazione concordati negli ultimi quattro anni ha chiuso un negozio ogni due giorni. E non è più solo una questione di orario, giorno, stagione, ma di resa economica dei proprietari. Rabbia e rassegnazione avevano resistito al boom dei centri commerciali e all'assalto low costa dei concorrenti cinesi. L'ultima botta sembrerebbe sia il calo dei passanti davanti a quelle vetrine, che per anni hanno aperto con il massimo dell'orgoglio per colpa dell'ausiliare della sosta che non perdona la macchina in doppia fila del cliente in coda alla cassa, quelli dell'Ecopass per entrare nell'area C, oltre che l'aumento dei costi d'affitto degli immobili. Secondo i dati di Camera e Commercio di Milano, sono 690 i negozi chiusi dall'inizio del 2011, 206 nell'ultimo anno, 15 dall'inizio del 2015. Soffrono tutti, in particolare quelli di abbigliamento, per colpa di centri commerciali, calamita, le edicole e la cartoleria. Una caduta costante che ha colpito soprattutto le piccole botteghe storiche. La resistenza media di un esercizio è ormai di 7 anni. Nell'ultimo anno aumentano i ristoranti, in particolare quelli etnici, ma soprattutto alloggi ed alberghi, che segnano negli ultimi 12 mesi un più 10,5%. C'è chi lo chiama effetto Expo. In occasione della Festa della Donna, il 7-8 marzo, la Fondazione Ospedale Caimi di Vailate, visto il positivo riscontro dello scorso anno, offre l'opportunità alle residenti del Comune di Vailate, nate tra il 1 gennaio del 1985 e il 31 dicembre del 1995, di sottoporsi gratuitamente ad un'ecografia al seno. Nella mattina del 25 febbraio è giunta una chiamata al 112 da parte di un frequentatore della piscina comunale di Crema, che denunciava il furto del proprio cellulare all'interno degli spogliatoi. Giunto sul posto, i carabinieri hanno accertato che i ladri, probabilmente fingendosi utenti, sono entrati negli spogliatoi e rubato, dopo aver forzato gli armadetti, diversi cellulari e portafogli. Grazie al fatto che uno dei cellulari fosse presente in sistema di localizzazione satellitare, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo e dal sistema risultava che il telefonivo si stava spostando nel centro abitato di Romanengo, con direzione alla provincia di Brescia. Subito è stata attivata una pattuglia del nucleo radiomobile all'inseguimento dei ladri. Una volta sul posto, i carabinieri hanno notato che il segnale si stava restando in un punto preciso, vicino ad un cassonetto. I ladri, probabilmente sentendosi braccati, hanno gettato l'aria furtiva, per poi fuggire in fretta e furia. Metà dei dipendenti impiegati in nero e nessun documento per la valutazione dei rischi. È stata chiusa una lavanderia industriale a Dagnadello, gestita da cinesi, e l'imprenditrice è stata sanzionata con una maxi-multa da 27.000 euro. L'operazione è stata condotta dai carabinieri di Crema, unitamente ai colleghi del nucleo dell'ispettorato del lavoro di Cremona. In arrivo nuovi soldi dalla regione Lombardia per gli istituti scolastici. Rientrano anche cinque scuole del territorio cremasco nella graduatoria degli interventi prioritari di edilizia scolastica. Regione Lombardia metterà a disposizione 27,5 milioni di euro per il piano di attuazione per interventi di razionalizzazione della rete scolastica e per operazioni di conservazione del patrimonio scolastico esistente. Nella graduatoria degli interventi di razionalizzazione del patrimonio rientrano le scuole primarie di Scannabù e Pianengo. Non sono state invece ritenute ammissibili le richieste degli istituti di Castelleone e Casal Maggiore per quanto concerne gli interventi di conservazione del patrimonio scolastico due gli istituti cremaschi in graduatoria, l'Istituto di Via Spini di Cremosano e il Liceo da Vinci di Crema. Nel territorio cremonese godranno degli stanziamenti regionali la scuola dell'infanzia di Gerre de Caprioli, la scuola elementare di Isola Dovarese e la scuola materna di Sesto ed Uniti. Incidente nella zona di Brusa Porto sulla careggiata in direzione di Trescore e Balneario nella prima mattina del 26 febbraio. Morto un uomo di 32 anni sul posto il 118 e le forze dell'ordine. La dinamica dell'incidente stradale è ancora in corso di accertamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di uno sconto frontale tra due veicoli. Coinvolto anche un uomo di 42 anni le cui condizioni non sono apparse preoccupanti. Dalle 10 alle 19 di domenica 1 marzo il centro di Bergamo sarà chiuso alle auto. Lo stop è stato deciso dal comune che intende proporre la pedoneizzazione del centro una volta al mese. La chiusura riguarderà le vie della zona centrale della città, compreso Viale Roma, per permettere il passeggio libro su tutto il sentierone. La Guardia di Finanza di Molfetta ha scoperto un'evasione fiscale milionaria. Una presunta evasione fiscale milionaria compiuta da un'impresa bergamasca che commercia l'ingrosso materiale ferroso è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Molfetta. Secondo le indagini la società per diversi anni ha fatto ingenti vendite in nero e ha dedotto anche costi fittizi documentati da fatture false emesse da una società di comodo appositamente costituita. L'ammontare dei ricavi sottratti all'imposizione fiscale è stato quantificato in circa 10 milioni di euro mentre i costi inesistenti ammontano a 400 mila euro con un'IVA e VASA che supera i 2 milioni di euro. I responsabili della società sono stati denunciati per frode fiscale e dichiarazione infidele. Il collaudato meccanismo fraudolento prevedeva la creazione nel nord Italia di una società cartiera che faceva risultare falsamente la vendita di materiale per edilizia a numerose aziende edili pugliesi. In realtà, così come accertato dalle indagini, il cedente della merce era la società molfettese che grazie alla massiccia evasione fiscale era in grado di praticare prezzi estremamente concorrenziali mettendo in difficoltà altre aziende sane del settore. Continuano le indagini. La maschera di Anonymous sul volto, il cappuccio del giaccone tirato sopra la testa e un coltello da macellaio in pugno. Questa è la figura che la titolare della tabaccheria di Via 24 Maggio a Dovera si è trovata davanti all'orario di chiusura. Forse lo stesso che nei giorni scorsi ha realizzato colpi simili anche a Crespiatica, a Postino e a Monte Cremasco. Spaccata al negozio Wind vicino alla stazione ferroviaria a Codogno. Una banda di ladri ha sfondato la vetrata con una pontorubata usata come ariete e una volta dentro ha puntato la stanza sul retro dove erano custoditi i cellulari. I malviventi non immaginavano fossero in cassaforte e così non sono riusciti a prenderli. Prima di andarsene hanno raffato due cellulari di poco valore esposti in una vetrina. A Lodi ancora un caso di inquinamento. Vediamo insieme il servizio. Individuato il possibile inquinatore della roggia Bertonica. Nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio la polizia provinciale di Lodi con i tecnici ARPA e due assessori comunali hanno fatto un sopralluogo lungo il corso d'acqua che giovedì era stato ricoperto quasi del tutto da uno spesso strato di schiuma bianca. L'obiettivo del sopralluogo era quello di verificare l'origine dello sversamento di una sostanza, che stando ai primi rilievi fatti consiste in liquido detergente. È stato individuato un'attività produttiva da cui si sospetta sia scaturito l'inquinamento o una marea bianca ha invaso la roggia che costeggia via del Sandone. Se ne è accorto ieri mattina chi è passato a piedi da quelle parti ed ha scattato dalle fotografie per documentare l'accaduto. Ma nessuno a quanto pare ha segnalato l'inquinamento anche alle autorità competenti e così il controllo non è stato fatto. è il sospetto che qualcuno lungo il corso della roggia abbia scaricato in acqua idrocarburi oppure i residui della pulizia di qualche cisterna o macchinario. Non mancate stasera l'appuntamento alle ore 20 con Evergreen richiesta in diretta. Grazie per essere stati con noi e alla prossima edizione. Grazie per essere stati con noi